Beh, devo dire che io e te nell'ideare tutto quello che ormai organizziamo da alcuni anni siamo molto cinquecenteschi perché abbiamo unito dopo tutto, li portiamo benissimo, però abbiamo cercato di non tracciare una divisione tra quello che è l'aspetto più prettamente scientifico naturalistico e l'aspetto più umanistico invece. Ma come vedete appunto o vedrete nel ciclo delle conferenze anche con alcuni appuntamenti a seguire è una divisione successiva nel cinquecento e non solo nel cinquecento invece la conoscenza aveva una visione omnicomprensiva. Allora, il viaggio che facciamo stasera è un viaggio tra le collezioni di meraviglia, tra oggetti rari, curiosi, strani, meravigliosi appunto e sono oggetti davvero che suscitano lo stupore, sono stati creati apposta per stupire, per creare meraviglia meraviglia deriva da mirare, ammirare, quindi tutto ciò che poteva o doveva essere ammirato. Io spero davvero, purtroppo non abbiamo gli oggetti, abbiamo solo le fotografie, però davvero io mi sono molto divertita a preparare questo PowerPoint perché davvero io devo dirvi, nei libri che già conoscevo, ma insomma io anche dalle semplici fotografie rimango ammirata veramente dalla maestria assoluta di questi uomini e anche da qualche donna che ci hanno preceduto e che appunto hanno avuto questo gusto per la collezione e per il bello. Allora, ecco perché il titolo che ho scelto è molto complesso, ma davvero forse il termine tedesco che è quello utilizzato quando si parla di Camere delle Meraviglie, forse a tutti non sarebbe stato altrettanto chiaro, ecco perché ho messo un sottotitolo così elaborato. Adesso. Scusate. Per iniziare questo viaggio ho deciso di iniziare con le parole di Edal Gisalugli che è stata una grandissima studiosa proprio specializzata in Camere delle Meraviglie e che ci permette questa frase appunto di fare qualche riflessione iniziale. Considerando l'estrema specializzazione a cui ci ha abituato la scienza moderna e la sua totale separazione dall'arte e dalla cultura umanistica in genere, è sorprendente constatare come dal Cinquecento al Settecento sia stata praticata in Europa la possibilità di far convivere insieme i riperti dell'arte e della scienza. Il luogo di questa straordinaria sintesi sono le collezioni miste di arte e natura che studiosi, artisti e principi riuniscono nelle loro dimore a partire dalla metà del Cinquecento. C'è una grandiosa utopia dietro questi progetti che ce li consegna ancora con il loro fascino intatto. L'idea che sia possibile riunire in una sola stanza, in una sola collezione, tutto il mondo. Al centro di questo percorso straordinario c'è il collezionista come autore di un microcosmo, la sua raccolta, che deve essere lo specchio del macrocosmo, il mondo. Quindi sul primo concetto abbiamo proprio riflettuto, prima scherzando appunto su questa idea, di questa sintesi che si può fare tra i vari approcci del sapere. E poi il secondo concetto è quello appunto della collezione. La capacità di questi uomini di scienza o anche di principi di grande cultura di riunire in un'unica stanza, appunto nella stanza delle meraviglie, delle collezioni spettacolari. Allora, queste tanto per iniziare sono delle stampe che illustrano queste stanze. La prima cosa che possiamo notare è questo horror vacui, questa necessità assoluta di raccogliere, quasi di costipare tutti questi oggetti che erano i più strani possibili. E anche il più contrasto possibile, nel senso che a noi non sembra avere un ordine. Per esempio l'ordine illuminista qua non c'era per niente. Vedete per esempio il coccodrillo appeso, ci torneremo su questo concetto, ma si va dalle conchiglie, si va dai libri, dagli oggetti in bronzo e chi più ne ha più ne metta. Ecco, per quanto riguarda appunto le collezioni naturalistiche, che sono un po' alla radice di quelle che sono i musei di scienze naturali, abbiamo alcuni studiosi che dall'Aldovrande, l'Imperato, Caciolari, ce ne sono altri, insomma, iniziano a collezionare, ma non solo per il gusto di collezionare, ma anche per il gusto di studiare, di fare paragoni e di creare quello che loro chiamano il teatro del mondo. Ecco, questo qua è una veduta panoramica del Museo Settala, questo era a Milano, e era una collezione molto importante, è confluita buona parte all'Ambrosiana, e una cosa che mi preme dirvi subito è che purtroppo queste collezioni sono state praticamente disperse, hanno avuto delle sorti molto tragiche, o come in questo caso, perché lui effettivamente lasciò i suoi beni all'Ambrosiana, ma invece gli eredi non erano d'accordo, quindi una parte della collezione venne messa da una parte, una parte dall'altra, addirittura al suo funerale alcuni oggetti vennero esposti e poi non tornarono più. Quindi insomma, sono collezioni di oggetti, peraltro, anche abbastanza piccoli, quindi facilmente trasportabili, quindi facilmente dispersibili. Questo qua è un altro appunto, quello che, come vedete, viene definito museo, perché qua davvero stiamo parlando anche dell'origine del museo, del museo scientifico, ma anche di altre tipologie di musei, come quelle, per esempio, del museo delle arti applicate, le cosiddette arti minori, che a mio dire di minore non hanno proprio nulla, anche se noi siamo abituati invece a occuparci magari di dipinti, quando magari siamo più portati a visitare una pinacoteca e magari non siamo attrati dagli avori, piuttosto che dai cammei. Allora, questo velocissimamente, proprio per ricordare che c'erano questi studiosi, questo è Aldo Vrandi, un famosissimo studioso che è un po' l'erede, il fondatore della cattedra di scienze naturali, vero Adriano? Lui praticamente fece istituire la prima cattedra di filosofia naturale nel 1561, quindi insomma è veramente all'origine di tutto. e creò una raccolta naturalistica che poi lasciò in eredità all'università di Bologna e guardate un po' che cifra, quindi questo microcosmo della natura aveva 18.000 diversità di cose naturali e 7.000 piante essicciate in 15 volumi, pensate che cosa incredibile, ma poi lasciò 18 volumi, cioè lui incaricò numerosi disegnatori, perché ovviamente il disegno diventa fondamentale per poter studiare, per poter paragonare, e quindi incaricò numerosi disegnatori di riprodurre in maniera precisa fiori, piante, mostri, animali, insetti, pesci, qualsiasi cosa appunto proprio, e sono appunto 8.000 le illustrazioni, pensate che lavoro incredibile. Questo ve l'ho già detto, appunto il Settala, quindi qua a Milano, lui andò per esempio in Turchia a Cipro, perché un altro aspetto di questi uomini di scienza era appunto la necessità di viaggiare, e poi ricordate che nel Cinquecento incominciano, grazie alle scoperte appunto del nuovo mondo, iniziano ad arrivare anche reperti, come dire, prima non conosciuti. Ecco, questo per esempio è l'arte, quindi parliamo di dipinti che presento, questo è un quadro che ho visto quest'estate ad Hamburgo, dove appunto questo Heinz, che è un pittore fiammingo, tedesco, che predilige questa tipologia di pittura, che è una pittura fiamminga molto precisa, ecco ci fa vedere questa raccolta che erano sempre stipate in armadi. E quindi appunto qua vediamo di tutto, dalle conchiglie, ma all'avorio, ai gioielli, al corallo, alle opere d'arte, al teschio, certo. E poi qua è un'altra, sempre opere, questa si trova a Londra. Ecco, perché si colleziona? Si colleziona ovviamente per amore del collezionismo, lo sappiamo molto bene, anche noi forse da bambini abbiamo raccolto le cartoline, come si fa spesso, e poi ognuno di noi ha la passione nel collezionare qualcosa. Ma si colleziona per prestigio, ovviamente parlo di prestigio soprattutto dei casati, quindi quando vedremo adesso su di principi e signori appunto che si occuparono di queste collezioni, poi ovviamente anche per studio, perché no? Tutto ciò ha origine nel Medioevo, dove c'era certamente un'attenzione per il meraviglioso, per qualcosa che praticamente andava oltre il normale, non so, penso anche negli animali, al basilisco, per esempio, ecco, che era, quindi venivano creati questi piccoli draghi e venivano creati con le razze, ho imparato, venivano quindi utilizzate le razze e venivano ritagliate e facevano il basilisco. Ecco, per dire, no? Ma però anche da oggetti che invece venivano portati, per esempio, e messe nelle chiese, come i coccodrilli. I coccodrilli venivano appese, ma anche per esempio le uova di struzzo. Voi avete presente certamente, per fare un esempio celeberrimo, Piero della Francesca, con praticamente la Madonna che è conservata a Brera e c'è un uovo di struzzo che pende. Avete presente un quadro celeberrimo? Ecco, quello è stato calcolato da alcuni studiosi, è davvero un uovo di struzzo. Effettivamente abbiamo anche altre testimonianze che ci parlano di uovo di struzzo appesi nelle chiese. È facile pensare appunto, perché la simbologia dell'uovo è chiara a tutti, quindi ecco perché è anche la presenza nelle chiese. Prima delle camere, delle meraviglie, ci sono gli studioli, che sono dei luoghi dove praticare l'ozium, che non ha nulla di negativo, ma bensì è il luogo dove appunto si studia, ci si dà appunto, ci si ricava dei momenti di riflessione, di meditazione, e praticamente sono dei luoghi dove vengono raccolte le antichità, ma anche le naturali e le artificiali. Qua alcune, tanto per farvi degli esempi, Isabella d'Esta a Mantova, Alfonso d'Esta a Ferrara, Federico di Montefeltro a Orbino, Francesco Prima dei Medici a Firenze. Questo, siamo appunto alle origini degli studioli, vi ho posto questo quadro di Antonello da Messina, questo è San Gerolmo, è un San Gerolmo dove vedete appunto che sembra all'interno di questa chiesa, quindi con una serie di riferimenti iconografici, che ci porta appunto, sapete, San Gerolmo, colui che aveva tradotto la Bibbia, e quindi padre della chiesa, è un quadro intenso di particolari e dove si può notare che appunto nello studio ci sono sia libri che oggetti. E poi qua il significato, è un quadro molto, l'abbiamo visto, chi segue i cicli, io già altre volte ho parlato del significato degli oggetti nella storia dell'arte, per esempio il pavone sta a significare la rinascita spirituale, oppure la pernicio che ha invece un significato negativo, il gatto che può essere sia negativo che positivo, il catino, questo è il quadro, adesso vedete che sono lì, gli oggetti sono posti lì proprio innanzi. Ecco, un altro quadro importantissimo come ricostruzione appunto di questi luoghi di collezione è questo quadro di Carpaccio dove davvero qua vediamo una sfera ammellare, vari manoscritti, strumenti musicali, c'è un po' di tutto. Ecco qua ve l'ho scritto, vari libri, l'occorrente per scrivere, gli astrolabili, la sfera ammellare, la clessisa, statuini, un altare, una piccola raccolta accanti ad oggetti di uso comune. Ecco, il primo studiolo, forse qualcuno di voi avrà visto ad Urbino lo studiolo di Federico da Montefeltro e uno dei pochi che è rimasto. È bellissimo, anche se purtroppo è sfogliato, cioè nel senso che se noi aprissimo gli armadi non troveremmo più la collezione. Questo è uno studiolo realizzato nel 1476 con una parte in linea e invece una parte superiore dove appunto ci sono 28 ritratti di figure ecclesiastiche civili, anche se alcune sono andate perse. E poi c'è questa citazione dell'Eneid che è appunto virtutibus itura d'astra, quindi appunto attraverso le virtù si arriva al cielo. E nelle tarsie ci sono dei riferimenti agli oggetti che erano contenuti e sono appunto costruite queste tarsie in maniera illusionistica. Per esempio ci sono oggetti libri ma anche strumenti musicali. E anche viene ritratto il duca che è in abiti civile e lascia accanto l'armatura. Ecco qua una visione di queste meravigliose tarsie. Anche qua appunto gli oggetti, l'orologio, la gabbia pepe dei papagalli. Ecco, Isabella d'Este è notissima per essere stata una donna di una cultura incredibile. E vi ho riportato proprio quello che lei diceva di questo suo studiolo. Io che ho posto grande cura in ricogliere cose antiche per onorare il mio studio. lei aveva lo studiolo e la grotta così si veniva definita e iniziò a collezionare le antichità quindi soprattutto i busti dell'arte classica. Ma poi c'erano tanti cammelli da cui il famoso cammello d'Este che adesso si trova a San Pietroburgo monete, vase di agato, di aspro tutto quello che voi potete immaginare di bello e di prezioso. E poi il suo studiolo aveva un programma decorativo molto preciso che è la stessa che aveva programmato. Tra cui appunto si può vedere il Perugino, lotta tra amore e castità. Eccola qua in questo bellissimo ritratto di Tiziano. Voi sapete che purtroppo davvero possiamo dire ai noi le collezioni meravigliose dei Gonzaga hanno subito delle dispersioni pazzesche perché voi sapete che l'ultimo d'Este vendette parte della collezione Carlo I Steward quindi buona parte dei quasi si trovano in Inghilterra e poi ci furono i Lanzichenecchi nel 1630 che depredarono queste meraviglie quindi Palazzo Hotel Palazzo Gonzaga quindi dove davvero c'era un lusso veramente la meraviglia più assoluta da tanti punti di vista e molti di questi oggetti sono finiti a Vienna compreso il ritratto di Isabella d'Este. Ecco adesso questo per farvi vedere ecco perché poi questi questi oggetti sono a Vienna. Questa è la cosiddetta medaglia di Isabella d'Este con un suo ritratto oro, smalti e diamanti. Ecco adesso sottolineeremo appunto i materiali cui vennero realizzati queste meraviglie. Nell'inventario Sivini che venne fatto grazie a noi nel 1540-42 perché almeno abbiamo questo inventario per poter ricostruire la meraviglia di questo luogo perché non possiamo più vederlo la dice nell'armadio De Megio che è nella crotta di Madama in corte vecchia. Questo è un bellissimo vaso in onice del 54 d.C. con i cammei agatea vi ho messo l'altezza 6,5 giusto per farvi capire che è un vasettino davvero minuto ma davvero tanto prezioso. Questo è un Nettuno sul Monte Marino 1530 e anche questo come vedete c'è anche il gusto del grottesco lo vedremo adesso proseguendo nel nostro viaggio. Questo è un satiro porta lampada quindi come vedete c'è anche l'idea di realizzare oggetti che possono avere un'utilità in pratica sempre però con questo gusto a volte del bizzarro a volte del meraviglioso a volte del prezioso qua stiamo parlando di bronzo questo è Ferdinando II di Tirolo chi di voi è andato in Isbruck chi di voi è andato al castello di Ambrasse ecco questo stiamo parlando di uno delle più grandi Wunderkamera dell'Europa Ferdinando II di Tirolo l'Arciduca era fratello appunto di Massimiliano II d'Austria anche egli grande collezionista di opere d'arte fu quello che ebbe questo rapporto privilegiato con l'Arcimboldo ecco Ferdinando II di Tirolo fissa la sua corte appunto a Tirolo e decide di riunire intorno a sé tutta una serie di artisti e di scienziati ecco qua il castello io ci sono andata molti anni fa e questo studio mi ha fatto venire voglia di andare un po' per così a ripercorrere in Europa le Wunderkamera tra l'altro a Vienna non so se avete letto da qualche parte ci hanno impiegato 11 anni credo che sia stato aperto nel 2013 ma insomma 13 anni per ricostruire la Camera delle Meraviglie con tutti gli oggetti che ci sono a Vienna che sono tantissimi meravigliosi ecco hanno fatto proprio hanno realizzato all'interno del Museo di Storia una sezione proprio dedicata all'esposizione di questi oggetti preziosissimi questo solo per farvi vedere qua ci sono appunto una serie di affresche con il Conti del Tirolo non ci porta ma solo per capire la preziosità di questi ambienti di questo castello ecco chi è appassionato d'arme davvero può andare qua e c'è una bellissima collezione di armature e tra l'altro vi ricordo lo vedremo poi meglio che le armature provenivano quasi tutto da Milano perché Milano già dal Medioeuro è la città principe in cui venivano costruite le più belle armature di tutta Europa cioè di tutto il mondo per l'epoca in cui stiamo parlando ecco diciamo che Ferdinando II era un collezionista come dire collezionava qualsiasi cosa le armature i busti le lastre sepolclare le brocche le statuette le monete i giocattoli corazze di samurai ecco corazze di samurai mi fa subito venire in mente di farvi riflettere su questa su questa cosa cioè sul fatto lo dicevamo prima la scoperta dell'America ma anche degli altri mondi e quindi giungono ovviamente oggetti provenienti da culture extraeuropee e ovviamente tutti questi oggetti che siano cinesi che siano giapponesi o azee che per esempio diventano preziosissime perché ovviamente sono strane sono particolari soprattutto sono rare perché un oggetto più è raro più ovviamente è importante questa è la base di ogni collezione purtroppo tornando al concetto della dispersione delle Wunderkamera questa magnifica collezione di Ferdinando II viene spostata a Vienna praticamente siamo nel 1815 ci sono ancora le battaglie napoleoniche e praticamente per regioni belliche insomma Francesco Prima lo fa trasferire comunque abbiamo un catalogo del 1596 i cataloghi l'inventare le lettere sono fondamentali per noi per poter ricostruire tutte queste collezioni e appunto ci dice questo catalogo che c'erano 22 armadi dipinti con gli oggetti contenuti ecco vi ho messo un lungo elenco mi sono divertite sentite un po' corna di cervo rami di corallo conchiglie montate con oro e coralli fatto a trapane nel 1575 scrigno in alabastro a forma di palazzo cilindrico Augusta nel 1590 cassetta con stemmi a smalti coppa di corno di rinoceronte il golgota che è un'opera d'arte minerarie con oro e argento sormontato da un crocefisso centro tavola con bussola a forma di montagna questo lo vedremo strumenti musicali un piffero a forma di drago per esempio spartiti con ricami in filo d'oro e argento perle orologi orologi da tavola anche molto complessi assai particolari per esempio questo che vi ho segnalato ai segni zodiacali le ore e minuti i giorni della settimana i mesi e anche il ciclo lunare addirittura poi ci sono gli automi ovviamente gli automi non potevano mancare perché ovviamente quelli creavano stupore per eccellenza quindi per esempio c'è una gondola con tre personaggi e tutti i tre personaggi si muovono compreso appunto il gondoliere che fa muovere che si muove insomma poi ci sono coralli ci sono avori madre perle i vetri o gerri in ferro gli armaggi gli oggetti turchi gli oggetti cinesi davvero una collezione spettacolare alcune fotografie questo oggetto legno, ferro, acquarello su carta 39 cm quindi non è piccolissimo e questo si trova ovviamente a Vienna ah scusate lo vedete sono riprodotte le facce grottesche e qua subito ci fa pensare all'Arcimboldo ma ci arriveremo guardate un po' Memento Mori siamo in questa statuetta in legno di pero 1500 guardate questa articolazione questa particolarità e anche questo artificio questo invece appunto è una cassetta sempre di preghiera sempre con questo teschio abbastanza divertente questo si trova ancora ad Ambrà guardate un po' meridiana in questo legno particolare ecco questa è una meridiana anche nei materiali queste collezioni potevano avere un doppio significato perché per esempio avevano un significato per esempio taumauturgico oppure salvifico oppure così insomma avevano dei significati reconditi a volte anche materiali erano anche credenze ovviamente ecco questo è la questo paesaggio montano molto interessante perché realizzato cioè impreziosito con una polvere che ricopre tutta la struttura e poi in cima c'è una fortezza in avorio e dentro c'è praticamente questa meridiana in avorio e poi ancora come vedete il coperchio è decorato con questo paesaggio stilizzato quindi diciamo che non manca nulla è un'opera assolutamente come dire accurata in tutti i suoi particolari è stata fatta dopo il 1575 ed è un oggetto di produzione germanica ecco l'anno scorso al castello di Ambra ha visto una mostra in cui appunto hanno tentato perché è veramente difficile l'operazione di ricostruire quello che era la collezione di Ferdinando II e quindi questa è un'immagine evocativa di quello che sono riusciti a fare ah beh e poi questo lo conoscete tutti eh questo si trova a Vienna è un oggetto preziosissimo stiamo parlando di Benvenuto Cellini dell'unica opera cesellata certa di Cellini datata 1540 1543 oro smalti piedistallo in ebano questa è famosissima perché qualche anno fa è stata rubata ve lo ricordate era stata rubata per tre anni eh avevano tentato di chiedere il riscatto era stata rubata a Vienna e guardate questa eh immagine meravigliosa di questo sale di questo eh pepe che appunto Nettuno è il sale e pepe e cerere ecco e che quindi appunto sono stati inseriti insieme a conchiglie cavalli cornucopie insomma quindi un oggetto preziosissimo e di eh grande fattura beh insomma Rodolfo II è l'altro personaggio a livello appunto di reali che davvero eh creò una wunderkamera molto interessante come peraltro è molto interessante eh la figura di Rodolfo II è stato un uomo molto affascinante perché Rodolfo II che era figlio di Massimiliano II quindi nipote di Ferdinando II che abbiamo appena visto eh si interessò non solo al collezionismo ma bensì all'alchimia eh quindi lui amava eh amava come dire circondarsi non solo di scienziati ma bensì anche degli astrologi eh medium li potremmo definire così quindi era un uomo molto interessante e quindi fece comunque costruire a Praga eh la sua Kusterkamer e eh praticamente divise questa sua collezione tra naturale e artificialia questo è un suo ritratto guardatelo bene perché guardate un po' ah no ecco il passaggio che vi ho messo è che eh nulla viene a caso perché volevo arrivare a questa eh celeberrima è il ritratto di Rodolfo II quindi guardate l'Arcimboldo dopo tutto ci ha preso molto eh ha fatto questo ritratto bellissimo molto divertente che Rodolfo II aspettava eh aspettava e apprezzava Rodolfo II aveva un rapporto eh incredibile con l'Arcimboldo e eh praticamente è lo stesso linguaggio fra uomini della stessa epoca perché eh torno a dire nulla viene fatto per caso ma in Lombardia scusate in Lombardia se voi pensate alle teste di Leonardo da Vinci eh sono un riferimento preciso sul fatto che in Lombardia in modo particolare ci fosse una passione per le tesche tesche grottezche quindi per un senso ironico e quindi ovviamente queste vi ho messo quelle di Giovanni Ambrogio Brambilla 1580 1590 ma per arrivare a questo la grande capacità di dell'Arcimboldo di giocare di giocare molto di costruire appunto queste figure e di tra l'altro creare cioè un gioco culturale interessantissimo il fatto che lui non lo chiama ritratto di Rodolfo II ma lo intitola Vertumno quindi praticamente è il Vertumno cioè un errore di battitura Vertumno che appunto è il dio delle quattro stagioni quindi è il dio della stagione dell'oro quindi è sottolineare appunto la ricchezza la potenza di Rodolfo II quindi c'è tutto un gioco di rimanti e qua vi ho posto questi versi che sono stati attribuiti all'Arcimboldo e subito inizia con un concetto che in questa chiacchierata è primario che tanto stupore perché stiamo parlando di meraviglia di stupore e poi lieti rideti e beh perché insomma c'è anche il gusto della piacevolezza certo che solo un mucchio mi credete di frutti e di verdura perché è una prima visione così potrebbe apparire sono Vertumno e mi pregio di essere fattura dell'Arcimboldo di sì alto ingegno che ben giostra di parco la natura e questo è un altro concetto importantissimo cioè l'uomo che tenta di superare la natura quindi sono poi gli artificialia quindi naturalia e gli artificialia ecco qua Rodolfo II ah ecco una cosa mi sono dimenticata di dirvi che praticamente lui si era fatto fare così insomma sorridiamo un poco l'oroscopo da Nostradamus ma siccome l'oroscopo non gli piaceva per nulla allora lui aveva deciso di cambiare segno zodiacale ecco questo giusto per dirvi ecco comunque nella sua corte c'erano personaggi come appunto il filosofo Giordano Bruno l'astronomo Keplero il mago Kelle il cabalista Jean D insomma non mancava nessuno ecco qua queste meraviglie l'uovo di struzzo vedete torna eh fatto all'Ipsia oppure guardate la lampada olio a forma di conchiglia su artiglio di aquila sono tutti a Vienna questo è Ottavio Miseroni grandissimo artista milanese e questa è una sua coppa a forma di chiocciola con Nettuno quindi qua vedete l'elemento naturale inglobato invece in un elemento di preziosità assoluta pietra e degli otropo montatura in argento dorato o guardate questa divertentissima fiaschetta per polvere da spara a forma di testuggine ecco anche qua lo dicevo prima questa idea della fabbricazione di oggetti che potevano avere anche un senso pratico questi sono dei candelabri e l'allegoria della primavera opera di artissimo livello questo viene prodotto a Norimberga guardate che meraviglia brocca a forma di drago con lapislazzoli con pietre e smalti sono degli oggetti preziosissimi ecco i cristalli i cristalli e i cristalli di rocca anche questi sono per lo più di produzione milanese perché Milano davvero all'epoca era luogo delle migliori botteghe anche per quanto riguarda non solo le armature ma questo ve lo dicevo già in epoca medievale ma in questa epoca per quanto riguarda i cristalli che sono finissimi e guardate che preziosità quindi cristallo argento e smalti ma la ricercatezza di questa fattura e ovviamente i cristalli non mancavano in nessuna di queste collezioni preciosizie ma torniamo in Italia Francesco Prima De Medici Gran Duca di Toscana è praticamente colui che crea lo studiolo di Palazzo Vecchio forse qualcuno di voi l'avrà visto girando per Palazzo Vecchio e appunto anche egli aveva una grande passione non solo per gli studi naturalistici ma anche per l'alchimia e lo vedremo perché spesso i due concetti andavano a pari passo poi c'era appunto sempre la ricerca della pietra filosofale e poi il desiderio dell'immortalità mica poco ecco questo è lo studiolo di Francesco Prima questa ci fa riflettere perché voi avete presente Palazzo Vecchio c'è la sala dei Cinquecento questa immensa sala del Cinquecento che è appunto il ritrovo delle assemblee è il simbolo del potere dei medici e poi accanto c'è questo studiolo piccolo dove ovviamente pochissimi potevano entrare il luogo di rifugio di Francesco Prima è il luogo dove appunto lui si fermava a raccogliere a studiare dove portava avanti i suoi interessi scientifici alchemici ecco quindi anche dal punto proprio architettonico c'è un significato molto forte questo ve lo dicevo è il luogo dell'Ozium e tra l'altro c'è una decorazione molto interessante portata avanti da Giorgio Vasari e da una serie di artisti e praticamente venne realizzato in due anni ovviamente anche il progetto artistico ha dei significati molto precisi ovviamente non può essere casuale e purtroppo quando morì il duca l'ambiente venne smantellato e il contenuto disperso e solo nel 1920 si tentò di ripristinare lo studiolo ecco ha una volta bocca questo studiolo e al centro c'è Prometeo che riceve i gioielli dalla natura e poi c'è un ciclo pittorico dedicato alla personificazione dei quattro elementi e poi ci sono ovviamente le entità alchemiche non possono mancare la flemma fredda e umida come terra e acqua il sangue umido e caldo come acqua e fuoco la malinconia fredda e secca come terra e aria la collera calda e secca come aria e fuoco ecco insomma e adesso però vi volevo far vedere questi sono i bronzetti che sono stati recuperati e vedete per esempio questo vulcano questo è il dipinto che vi dicevo centrale di Prometeo che riceve la pietra dalla natura e poi ecco molto interessante questo riquadro dove c'è la fucina e il laboratorio di alchimia vi faccio notare che il personaggio sulla destra è Francesco I quindi lui si fa ritrarre all'interno di questi quadri che illustrano i suoi interessi e le sue passioni alcuni oggetti dei medici che adesso si trovano a Palazzo Pitti per esempio la figura di Conchiglie per stare appunto nell'ambito tra naturali e artificiali guardate che bello questo nocciolo di ciliesa pensate quanto è piccolo un nocciolo di ciliegia è stato scolpito con più di 100 teste quindi pensate anche la grande capacità di costruire questi oggetti che poi ovviamente erano contornati da ore da lacche da perle come in questo caso da smalti di nuovo un nuovo distruzzo questo non può mai mancare ah guardate che spettacolo adesso qua ve li ho messi tutti insieme non quanto tempo abbiamo vedete che meraviglia questi sono i gioielli perché anche i gioielli venivano ovviamente facevano parte di queste collezioni come appunto i preziosa venivano definiti guardate per esempio c'è in alto sulla vostra sinistra c'è un monile a forma di drago oro smaltato perla scaramazza e due diamanti sotto vedete un ragno lo vedete ecco un piccolo ragno un monile in forma di ragno con perla diamante e argento accanto uno a forma di ranocchio un altro ancora a forma di farfalle lo vediamo molto bene sempre con oro smaltato nove diamanti undici rubini argento poi un monile a forma di ricertola oro smaltato quattordici diamanti e poi guardate che meraviglia quei due pendenti uno in oro smaltato tra i rubini quattro perle che adesso è a Madrid XVI secolo e l'altro pendente a nave oro smaltato inciso filigrane e perle guardate che preziosità credo che a tutte noi signore farebbe piacere avere un monile di questa fattezza allora di nuovo queste sono conservate al museo degli argenti di Firenze guardate una fiasca quindi torna il cristallo cristallo sempre abbinato all'oro all'argento questo invece è interessantissimo è un vaso in forma di drago con diaspro oro smalti perle rubini 21 cm quindi guardate immaginatevi l'altezza ecco questa è una coppetta di giada incisa ma quello che è interessante è la provenienza cinese quindi torniamo a quello che vi dicevo prima quindi anche le rarità diventano ovviamente fondamentali all'interno di una collezione ecco questo fosse un personaggio magari non poco noto ma insomma è stato un grandissimo collezionista e non solo a dire il vero ma Carlo Emanuele prima duca di Savoio che fu quello che insomma cercò di allargare il regno sabaudo quindi di inglobare il Marchesato di Saluzzo che praticamente come dire cercò di essere glorioso da tutti i punti di vista ma soprattutto appunto per quanto riguarda l'arte e le sue passioni era un uomo che componeva poesie disegnava organizzava feste in prima persona anche alle scenografie intendo dire si interessava di urbanistica era un uomo veramente di una grandissima cultura perché quando poi parliamo ovviamente di questi collezionisti parliamo di uomini di una cultura enciclopedica ecco ovviamente nelle collezioni sabaudo c'erano già queste collezioni ma diciamo che Carlo le ampliò e appunto possiamo di nuovo ricostruire le sue collezioni grazie agli inventari creò questa grande galleria e li riunì in 22 armadi le sue sculture gli strumenti scientifici gli oggetti preziosi acquistati per lo più a Milano per le cose che vi dicevo prima ecco e appunto la produzione milanese soprattutto dei cristalli dei fratelli Saracchi di Annibale Fontana o delle famiglie di Miserone abbiamo già visto un oggetto prima ecco guardate qua questo Carlo Emanuele prima di Savoglio un intagliatore presso la corsa quindi anonimo ma siamo nel 1621 una corniola con intagliato con la figura del Duca guardate la preziosità e la curatezza dell'intaglio o guardate questa brocca con visioni apocalittiche di San Giovanni ecco questo materiale non è andato disperso infatti si può ammirare a Torino ai musei reali io ero andata a vedere questa mostra effettivamente molto interessante dunque ecco qua Ottavio Miserone quindi siamo a Milano guardate che meraviglia questo calice di cristallo con oro smalti e poi qua invece un calice in oro argento smalti questa è una produzione invece tedesca ho un altro pezzo prezioso coppa con un calice lobato con di agata cristallo di rocca argento anche questo si trova a Torino ma Carlo I riuniva riunì anche queste piccole come dire collezioni nella collezione questi sono oggetti medievali probabilmente riperite nelle varie nelle varie cappelle sabaudo e quindi qua c'è un po' di tutto la croce con laminadoro l'ongobarda un volto di Cristo lo vedete in pasta vitra rossa centrale una placchetta quadrilobata c'è veramente un po' di tutto fino a una chiave ecco un altro elemento tipico di queste collezioni sono i cammei questi sono particolarmente belli e i cammei ovviamente possono essere sia della loro epoca contemporanea ma anche ovviamente naturalmente di produzione classica vedete per esempio il primo c'è una ninfa del primo secolo in calcedonio montato su anello lo vedete prima sulla sinistra un anello poi vedete appunto sotto una leda con il cigno in fondo in una testa di bue in corniola lo vedete rosso poi c'è un busto di lucio vero poi sotto vedete un busto con guardate il busto in lapislazzoli che è facilmente riconoscibile montate anche questo su un anello poi c'è l'arca di Noè quindi questa capacità in una piccola di costruire una scena in piccolissimo spazio e poi questo trionfo di Aradne in Sordonice e Oro ma Carlo Emanuele I era non solo un collezionista ma era anche uno studioso era un grande appassionato anche di naturalia e a Torino sono conservati questi bellissimi disegni di disegnatori piemontesi e qua appunto c'è questo concetto che avevamo visto con Aldo Vranti all'inizio della nostra chiacchierata appunto della grande attenzione del disegno come elemento di classificazione come mezzo di classificazione di studio ovviamente non mancano i fiori ma non mancano neanche gli uccelli pensate che questi uccelli non sono disegnati ma bensì sono stati decorati con le piume non so se riuscite a notare la preziosità di questi uccelli e anche la pazienza nel realizzarli ma adesso carellata di stranezze guardate questo Mosè fa scuterire l'acqua olio su lapislazzoli questo è olio su alberese che è questa pietra ma per esempio una pietra che veniva molto collezionata la pietra paesina perché avete presente che già la pietra paesina si presta ad una serie di interpretazioni guardate un po' un cranio questo con corallo rosso ovviamente questo si trova a Pisa e poi bellissima questa sedia di ossa di elefante mi soffermo un attimo a Vienna c'era il primo elefante muore nel 1552 allora decidono di non sprecare le ossa di questo elefante quindi di creare questo oggetto e quindi nel 1554 viene creata questa sedia di osse di elefante anche qua il gusto ovviamente del raro e del particolare guardate una collezione di conchiglie ma queste bellissime sono questa è una delle sette coralle in grotte che si trovano ad Innsbruck volute da Ferdinando II e voi sapete appunto della rarità del corallo della preziosità del corallo ma anche del corallo che aveva un valore taumaturgico del corallo che racconto video è nato dalle gocce di sangue della testa di Medusa e che solo quando viene portato fuori dalle acque si pietrifica come Medusa come lo sguardo di Medusa non ricordate il mito quindi insomma i coralli anche essi erano un oggetto che non potevano mai mancare ovviamente questo corallo è quasi tutto di provenienza italiana sono rimasti appunto anche tutti come dire gli scritti da cui desunibiamo che vennero comprati sul mercato italiano e l'Ingur in modo particolare guardate qua questa sirena perché ovviamente no ovviamente c'è gli oggetti strani il meraviglioso anche il favoloso lo dicevamo prima il coccodrillo eccolo qua ma è uno dei pochi coccodrilli che ancora è mantenuto nelle chiese torno a dire erano presenti anche a Sacromonte di Varese a dato punto c'era il coccodrillo e poi questa sirena bellissima come l'ho inventato ovviamente come abbiamo visto prima per il basilisco questo è un disegno dove appunto ci è denominato testacei cioè nicchi chiocci e conchiglie di più spezie con le pietre marine con le piante marine insomma non manca nulla guardate questo noce esotica una coppa questa si trova a Modena quindi anche questo desiderio queste provenivano dall'oceano indiano dalle chescelle in modo particolare e venivano ovviamente poi utilizzate per farne oggetti rari piccola figura in corallo della collezione di Spallanzane qua quindi vedete un corallo che viene lavorato a modi scultura con questo gioco incredibile di questa gamba d'appoggio ah beh poi qua gli unicorni ah ma quanti unicorni che c'erano tantissimi anche qua torniamo sempre al concetto del favoloso ovviamente erano denti di narvalo narvalo come si pronuncia narvalo e quindi appunto da cui veniva tratto questo corno di unicorno e ce n'erano davvero tanti perché poi l'unicorno lo sappiamo ci trasporta in un mondo favoloso e anche qua con dei poteri incredibili guardate un po' la zona di elefante africano oppure un pesce istrice conservato a Bologna e poi gli oggetti e gli artificiali guardate che spettacolo questo è un oggetto conservato al Museo Pol di Pezzoli guardate la preziosità di questo Nautilus che ovviamente veniva raccolto perché anche perché la sua spirale rimanda a tutta una serie di significati l'eternità quindi anche questo aveva il suo valere guardate qua ciotole varie tutte preziose ma guardate per esempio il lavapennelli in gioda cinese oppure la tazza a forma di conchiglia gli avori gli avori adesso vi ho posto questa saliera che proviene dalla Sierra Leone e questo appunto questa testa scusate questa palla realizzata in Germania sempre in avorio e guardate la provenienza della collezione Koenlicher una delle più grandi collezioni private a livello europeo dove appunto Luigi Koenlicher riunì non solo dipinti ma bensì anche tutti questi oggetti assai particolari che poi appunto sono alla base della casa museo che c'è a Milano questa è la brocca guardate che spettacolo questa brocca in avorio questo vaso con coperchio sempre cristalli sempre Milano questi sono il museo Pol di Pezzoli scienza esempi l'astrolabio questo è appartenuto a Carlo Emanuele prima di Savoia e poi una sfera armillare anche questo si trova a Milano gli automi bellissimi meravigliosi purtroppo ce ne sono rimasti sono pervenuti pochi esemplari guardate questo carro trionfale di Diana e questo orologio automo a foggia di cane mi accingo a concludere e noi appunto nel mondo moderno non abbiamo abbiamo certo c'è rimasto il gusto della collezione ma il gusto per queste collezioni così particolari tra appunto il fantastico lo strano il prezioso certo cioè gli artisti contemporanei si sono cimentati con questo genere di collezionismo particolare qua vi ho posto ma davvero sono tanti ma solo per vedere Claudio Costa 1992-93 il re e la regina guardate un po' questa particolare coppia realizzata oppure questi preziosa che sono delle larve gioiellate realizzate tra l'80 e il 2000 quindi vedete queste larve con perle e oro quindi dei gioielli moderni che richiamano quelli che abbiamo visto poco innanzi e poi il favoloso nell'arte contemporanea c'è ma c'è il gioco tra il reale e l'inreale quindi anche l'arte contemporanea davvero riflette molto su questo concetto e c'è un grande che ama questo gioco vi sto parlando di Damien Hirst londinese notissimo un uomo abilissimo a vendere i suoi prodotti un uomo ricchissimo un miliardario che ha saputo vendere direttamente quindi senza passare attraverso le gallerie le sue opere che sono conosciutissime è un uomo ovviamente un artista dirompente che vuole ovviamente molto come dire giocare molto ironizzare per esempio celebera il suo teschio con 8601 diamanti che si intitola For the Love of God perché sembra che la madre quando gli disse che voleva costruire questo teschio praticamente questo fu l'esclamazione lui cosa fece prese un teschio reale ottocentesco a cui erano presenti dei denti che fece strappare viene fatto un calco e su questo calco viene costruito questo teschio che non so se volete andarvelo a cercare su internet lo trovate ma lui per esempio ha questa passione di porre gli animali in forma leide e poi appunto di farne opere d'arte oppure anche qua come dire l'assurdo di porre delle pillole come pietre preziose quindi il gioco assoluto ma il richiamo a queste preziose collezioni non so chi di voi ha avuto la gioia di vedere l'ultime opere dei Damienhurst che si è tenute in questa mostra a Palazzo Grassi a Venezia e anche qua c'è un continuo un continuo come dire voler giocare prendersi in giro e come dire cercare il favoloso e allora c'è questa leggenda di questo liberto ricchissimo questo Ciffa Motin II che figura leggendaria aveva delle collezioni magnifiche ricchissime con questi manufatti che provenivano da tutte le parti del mondo questo immenso tesoro viene caricato su questo navicello su questo vascello scusate Apistos cioè l'incredibile attenti ai nomi che si inabissò a largo della costa orientale dell'Africa torna alla luce solo nel 2008 e allora è il gioco dell'immaginazione questa questa favola che viene raccontata e vi ho messo questa frase di Calvino tutto l'immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio oppure il suo rovescio una paura e quindi la magnificenza delle sculture la preziosità del materiale la grande capacità tecnica praticamente l'artista dà forma a questa sua ossessione a questo gusto per il bello per il prezioso e praticamente crea questo forse l'avrete visto la mostra non è terminata da tanto questo demone mesopotamico in coppa che è stato posto costruito in 50 pezzi all'interno di Palazzo Grassi guardate le misure ai 18 metri per 11 quindi questo demone mesopotamico che Urst decide di costruire e con questo shock incredibile quando uno entra a Palazzo Grassi si vedeva questa figura immensa resina dipinta è il materiale guardate con tutte le incostrazioni perché? perché fa parte del tesoro quello del vascello l'incredibile ok? quindi ovviamente è stato prelevato dal mare è un gioco guardate qua testa di unicorno cristallo di rocca e agata bianca è un'opera realizzata nel 2010 ma il divertente il gioco l'immaginabile lo strano tutto quello che volete voi nell'arte contemporanea viene vista con questa testa di unicorno di cui viene posta l'immagine marina quindi appunto Urst gioca non solo facendo credere che questa testa di unicorno pensate voi cioè l'assurdo nell'assurdo viene trovata in fondo al mare ma realizza delle fotografie che testimoniano il fatto che con gli schickei praticamente sono state fatte delle immersioni per prendere le opere pensate a che gioco incredibile di rimandi ecco guardate un po' questa è la testa di ciclope guardate sono tutti oggetti reperti che ovviamente non possono esistere logicamente lo sappiamo molto bene ma davvero la sensazione se appunto uno vuole stare al gioco è davvero di trovarsi accanto a reperti archeologici del primo secolo avanti Cristo dopo Cristo guardate un po' che incredibile oppure meravigliosa la testa di Medusa quindi questo richiamo totale nei confronti dell'arte classica la realizzazione questo riferimento al mito e guardate questa Medusa ha 14 serpenti e la preziosità però quindi torna il concetto non solo del raro ma anche del prezioso del favoloso la Malachite è un'opera meravigliosa le foto sono mie non sono un granché ma davvero un'opera preziosissima guardate anche di una certa rilevanza è 50 cm anche qua la conchiglia gigante beh insomma potrebbe essere in natura una conchiglia così credo di no però questo è più di un metro però lui ovviamente in questo gioco della meraviglia in bronzo crea appunto questa nel 2010 questa opera d'arte e poi ah beh non dimentichiamoci era un carico preziosissimo ovviamente non potevano mancare ovviamente non poteva mancare l'arte egizia quindi qua a Thor che viene costruito in oro argento e turchese nel 2015 quindi questa è un'opera preziosissima torno a dire che però viene ovviamente anche essa trovata in fondo al mare guardate che spettacolo questo faraone granito blu oro e agata bianca cioè l'agata bianca gli permette di realizzare le incostrazioni quindi anche questo è un gioco che è una meraviglia ma è il gusto ve l'ho detto del meraviglioso ma dell'ironico dello dello spettacolo l'arte si fa spettacolo e allora cosa fa in fondo al mare si trova anche Topolino quindi si trova anche Pluto si trova si trovano altri personaggi Disney si trova addirittura non ve l'ho messo ma praticamente l'immagine dello scultore stesso allora guardate che meraviglia e qua davvero chiudo questo Topolino che vediamo con tutti appunto con i coralli con le conchiglie con le incostrazioni e guardate ovviamente il momento in cui in questa gigantesca fotografia che è stata posta dall'artista accanto al reperto archeologico guardate il momento in cui l'archeologo Subacco l'ha trovato dopo centinaia d'anni in cui è rimasta così sul fondo del mare e con questo vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti